Venerdì scorso il mercato ha spazzato via più di un miliardo di dollari. Azioni come Apple, Nvidia, Microsoft hanno perso parecchi punti percentuali. E ovviamente anche Bitcoin ha risentito. Ecco, il problema principale, ovvero la sua correlazione e non la sua non correlazione con i mercati tradizionali, ci mostra ancora una volta qual è il problema principale attuale, ovvero quello che se i mercati decidono di fare una correzione forte o di entrare realmente in recessione e non di fare un soft landing, ecco che Bitcoin crolla con essi. Come abbiamo visto, Bitcoin ha toccato il suo massimo ed ha rimbalzato su questo massimo e ora si attesta intorno ai 68 mila dollari. Non è riuscito a bucare questa resistenza e sembra quasi un double bottom. Ovviamente alcuni sono molto negativi per questa situazione. Uno youtuber famoso, Alex Becker, ad esempio, uno youtuber che aveva previsto ancora nello scorso bull market quando uscire dal mercato ed era uscito quasi al top del mercato delle criptovalute, del bull market, ecco, in questo momento ha dato la sua opinione, ovvero l'opinione che secondo lui in questo momento è meglio fare un pack al contrario, una strategia che comunque io stavo già facendo e sicuramente molti, alcuni di voi stanno facendo, ma che non ho ancora iniziato e mettere i nostri investimenti su asset meno volatili. Questo perché la situazione non è delle più rose. Ora, la situazione, come ha detto lui, non è sicuramente delle migliori. I problemi continuano ad esserci, ma i problemi ci sono relativamente sempre e saranno sempre presenti in qualsiasi tipo di mercato. Ora, non sappiamo se Bitcoin romperà il full time high, sappiamo però che in questo momento continua ad oscillare in questa zona tra i 68-65 mila dollari nei momenti più bui, fino ad arrivare nuovamente ai 72 mila dollari. Ecco, in questa fascia la cosa che ci preoccupa di più però sono le altcoin perché le altcoin non stanno performando per nulla, anzi, sembra quasi che un bull market non ci sia stato e non ci sarà. Se guardiamo relativamente le altcoin, possiamo vedere che c'è stato un periodo di salita importante ancora 6-7 mesi fa, forse anche di più, e ad oggi invece questa salita sembra quasi essersi fermata, ma anzi, molti sono in perdita. Questo perché solo poche altcoin sono salite di livello e mentre le altre, durante le discese di Bitcoin, subiscono molto, anzi moltissimo, calando il loro prezzo. Ecco che quindi non sappiamo cosa faranno delle altcoin. Sappiamo però una cosa, e questa cosa è sicuramente che questa piccola parte di bull market che c'è già stata, inevitabilmente abbiamo visto un piccolo bull market, anche se non è minimamente avvicinabile agli altri bull market, non è avvenuta per l'investitore retail. Un bull market c'è stato, ma è stato un bull market di Bitcoin. E basta, io direi solamente di Bitcoin, dato che sì, le altre cripto hanno avuto sicuramente rialzi importanti, lo ripeto, ma neanche vicinamente e lontanamente dei prezzi che abbiamo visto negli altri bull market le altcoin. Nessun altcoin ha fatto un più 2.000%, un più 3.000%, sì, relativamente poche, qualche meme coin, ecco, ma se guardiamo nel dettaglio il mercato altcoin, anche se ce ne sono molti di più, non ha sicuramente reagito come ha reagito una volta. Il bull market c'è stato non per gli investitori retail, ma per gli investitori dei grandi fondi azionari, che hanno creato questo bull market artificiale con l'arrivo degli ETF. Ed è questo che ha anticipato il tutto, ed è questo che ha creato una dominance sempre più grande su Bitcoin e finché questa dominance non, tra virgolette, si scioglierà, ecco che i capitali non potranno entrare nelle altcoin e di conseguenza le altcoin non potranno sicuramente volare in alto. In questo momento un altro fattore chiave ci mostrerà se le criptovalute nel breve periodo andranno to the moon, come si suol dire, oppure no, ovvero le elezioni americane. Ecco, domani sera finalmente verrà dichiarato, in teoria, se non ci saranno problemi con i brogli elettorali e molto altro, il nuovo presidente degli Stati Uniti d'America. Trump è in vantaggio di pochissimo, ma Kamala Harris è lì. Anzi, è passata in vantaggio numerose volte durante la scorsa settimana, per cui la situazione è sicuramente alla pari, ma sono, tra virgolette, leggermente negativo purtroppo. Spero non vinca Kamala, ma qualcosa mi dice che lo farà. Ora, io non ho la sfera di cristallo, nessuna ce l'ha. Spero, come tutti voi, che vinca Trump, perché le cripto ne risentiranno sicuramente in positivo immediatamente, credo se non ci sarà un sell the news, ma se vincerà Kamala sappiamo come andranno le cose. Molto probabilmente, non è detto, il mercato avrà sicuramente un rigetto nel avere un nuovo presidente, tra virgolette, anti-cripto, anche se non dichiarato. Lo vedremo solo domani sera e vedremo anche come il mercato agirà. Altra cosa preoccupante è sicuramente la risposta dell'Iran e di Israele, queste guerre continue continuano ad esserci e finché la situazione rimane, tra virgolette, stabile, anche se stabile non lo è, ovvero sono attacchi preventivi su basi militari o qualcosa per mostrare la propria potenza, ecco che il mercato non lo sconta. Ma se dovesse esserci un attacco di quelli veramente, veramente gravi, ecco che il mercato sicuramente lo sconterà perché questo vorrebbe dire sicuramente una risposta ancora più grande di Israele e un'escalation, forse. Per cui, ragazzi, la situazione non è delle migliori ancora e non è sicuramente ancora delle migliori neanche nella parte russo-ucraina dato che i nordcoreani si sono uniti ai russi e questo porta a un allargamento del conflitto, qualcosa che assolutamente nessuno vuole ma che purtroppo sta avvenendo. Come andranno le cose in futuro? Non lo sappiamo, dobbiamo in questo caso solamente pregare perché noi possiamo solo pregare che le cose vadano bene in questo caso e per il resto dobbiamo stare sul pezzo e tentare di tenere emotivamente la mentalità nella direzione giusta ma soprattutto la strategia deve rimanere salda. Faccio questo video per mostrarvi come siamo messi con le altcoin e quali, secondo me, altcoin sono ancora ad un livello buono di acquisto. Ce ne sono tantissimi, ragazzi, inutile nasconderlo. Ora andiamo nella schermata PC ma se qualche cifra non corrisponde di un 5-10%, ecco, sappiamo che il mercato è volatile per cui, ragazzi, quando ho fatto questo video queste erano le cifre e non l'ho fatto un mese prima ma l'ho fatto magari un giorno prima o qualche ora prima per cui non comando io il mercato portate pazienza. Siamo all'interno di blockchaincenter.net andiamo a vedere subito se siamo in altcoin season ovviamente l'altcoin season index ci dice it's bitcoin season e la bitcoin season ci mostra un 24 come percentuale e siamo veramente lontani dall'altcoin season di fatti, se guardiamo il grafico in generale possiamo vedere l'andamento negli anni di questo grafico altcoin season e bitcoin season e ci mostra come siamo verso i 25 punti base in bitcoin season e 75 in altcoin season ecco, durante i 25 punti base la maggior parte delle volte non sempre, ovviamente quando siamo sotto i 25 o appena al di sopra è un buon momento per accumulare altcoin mentre quando siamo verso il 75 ovvero in altcoin season è un buon momento per comprare bitcoin andiamo quindi a vedere la top 50 performance negli ultimi 90 giorni possiamo vedere che SUI ha avuto un 208% molto molto buono WBT, FTM, TAO, Aptos, RAN, Doge WIF, TRX, FET, AVE, SHIBA, BTC 21.7% ricordo che quando il 75% delle top 50 coin performa meglio di bitcoin negli ultimi 90 giorni siamo in altcoin season questo esclude ovviamente le top 50 stable coin Tether, DAI ed altri asset come ad esempio WBTC ST, ETH, C, LINK all'interno di CoinGecko possiamo vedere la crypto price since all time high ovvero quanto siamo lontani dall'all time high per le varie criptovalute possiamo vedere bitcoin che al momento è a 68.692 dollari e l'all time è 73.000 dollari è solo un 6.7% del suo all time high Ethereum è un 50% praticamente e secondo me questo è un buonissimo colpo per accumulare ovviamente no consigli finanziari ma una crypto come Ethereum se Bitcoin è il re ecco Ethereum è la regina in ogni caso anche in futuro lo sarà che se ne voglia dire per me sarà sempre così è un buonissimo momento per accumulare poi c'è Tether che non la contiamo BNB che sinceramente anche se è al di sotto di un 21.9% e sicuramente in futuro si alzerà di livello non la vedo come una che abbia possibilità di moltiplicazioni elevate al contrario di Solana che è sotto un 37% ma è in pieno hype e questo è sicuramente il suo bull market e infatti tutte le meme coin al suo interno ma anche vari progetti vedi Grass che è andato molto bene appena rilasciato peraltro vi informerò dove ho allocato i Grass della community in che shit come abbiamo deciso all'interno del canale Telegram ma questo lo farò in un altro video USDC ok non guardiamo la nostra bull coin XRP sotto dell'84.9% anche questo è bel colpo ma sinceramente sapete cosa ne penso di XRP è amica dello Stato e degli Stati e ciò non mi piace non per idee politiche ma per il semplice fatto che ad esempio supporta Kamala Harris solamente perché secondo me vuole entrare a far parte degli scambi CBDC o vuole ecco fare buon viso a cattivo gioco e questo non mi piace però se guardo il lato speculativo sotto dell'84.9% non so se tornerà mai al suo time line ma essendo una cripto storica potrebbe tornarci è sicuramente a un buon livello di prezzo l'IDO Staked Ether non lo conto conto Dogecoin che è sicuramente una cripto da tenere sott'occhio abbiamo visto come è salita nell'ultimo periodo non ha sicuramente fatto un guizzo in alto importantissimo ma è salita grazie a un post di Elon Musk ricordo che Elon Musk fa parte della campagna politica di Trump e se Trump andrà su avrà un ruolo importante nelle decisioni tecnologiche del paese e di conseguenza Doge potrebbe essere ancora di più utilizzato o anche soltanto memizzato da Elon Tron meno 28.6% una cripto che è storica ma che non mi entusiasma c'è stato sicuramente uno scopio delle meme coin e di una in particolare all'interno dell'ecosistema Tron ma non mi piace più di tanto Toncoin meno 41% per me ottimo livello di prezzo sapete cosa ne penso di Toncoin al di là di ciò che è successo con Pavel quando la situazione tornerà ad essere una situazione stabile ecco che Toncoin tornerà ad essere stra protagonista basta guardare come l'ecosistema si sta sviluppando e di giochi al suo interno ne escono veramente uno ogni giorno Cardano ragazzi non so non so cosa dire perché mi sembra morta anche se sotto dello 90% non dà cenni di vita qualcuno faccia rivedere questa cripto su cui purtroppo sono dentro e ho accumulato ma non potevo di certo sapere che avrebbe reagito così in qualsiasi caso ovvero male sempre male ecco devo dire è un brutto livello di prezzo no assolutamente no anche senza guardare il suo time high il fatto che comunque non vedo miglioramenti non vedo passi in avanti non vedo nulla quindi non lo so ragazzi sinceramente Wrappet STH Wrappet Bitcoin saltiamo andiamo su Shiba Inu sotto dell'80% ottimo prezzo per una cripto meme utility perché viene usata anche per gaming quindi super Avalanche 83% questa per secondo me tra tutte quelle legate finora è quella con più potenziale con un livello di prezzo con più potenzialità per la salita per il fatto che fa parte del comparto delle gaming e che stanno sviluppando tantissime cose al suo interno VET lasciamo l'apertura Bitcoin Cash meno 91% Bitcoin Cash è comunque una cripto che viene utilizzata questo perché al suo interno sicuramente si può utilizzare molto per la privacy non mi piace più di tanto non so se tornerà mai sul time high è un discorso diverso rispetto a Litecoin ne parleremo dopo Chainlink è a un livello di prezzo meno 79.8% questa mi piace per il semplice fatto che oltre a avere una questione di verifica interna delle informazioni che è sempre utile all'interno del mondo di internet ora verrà utilizzata e viene utilizzata da moltissime crypto RWA e queste crypto RWA le utilizzano per ovviamente sapere se informazioni sono veritiere o no e di conseguenza secondo me unita a un comparto in trend innovativo come quello Real World Asset può dare molto ancora ed è un livello di prezzo buonissimo USDS non la guardiamo Leo Token non lo guardiamo andiamo su Polkadot altra crypto come Cardano morta che mi ha deluso ancora di più di Cardano veramente un disastro hanno cambiato strategia non hanno fatto marketing zero innovazione non mi piace per niente la amavo era forse una delle mie crypto preferite insieme a Solana ha fatto veramente una financia ma bisogna essere anche onesti e guardare in faccia le cose se non si vuole salire di livello e non si vuole stare sul trend del mercato e non si portano avanti le cose in maniera corretta è giusto che una crypto muoia dico la verità ci sono dentro sì purtroppo perché ho iniziato ad accumulare come sapete il mio pack è iniziato subito dopo il bull market ovvero nel bear market e alcune di queste crypto che sto elencando ad esempio Sui quella dopo la numero 23 non esisteva nemmeno quindi non potevo fare un pack su Sui che non esisteva ho fatto un pack sulle crypto più forti del momento poi ho fatto anche un nuovo portafoglio con le crypto nuove se seguite il canale lo sapete andate a vedere i video vecchi e scoprirete quali Sui sotto del 20% per me è la crypto del momento insieme a Aptos e usa la parallelizzazione nella sua blockchain quindi velocità e allo stesso tempo fee quasi inesistenti ottima crypto team forte e all'interno si stanno sviluppando ottimi progetti date soprattutto soprattutto un occhio alle MMCoin al suo interno perché anche queste possono dar tanto meno 20% sembra poco in realtà per il potenziale è un ottimo livello di prezzo Litecoin sapete che io amo Litecoin perché viene utilizzata più di Bitcoin in tutto il mondo per gli scambi se guardiamo il suo grafico vi mostro solo il grafico di Litecoin possiamo vedere come abbia avuto picchi importantissimi nel suo massimo sia nel 2018 e sia nel 2021 anzi nel 2021 ha superato addirittura il 2018 e per me può tornarci questo perché viene utilizzata tantissimo in tutto il mondo ragazzi e non è stata dimenticata anche se è un fork Litecoin è veramente veramente buona come crypto arriviamo alla 25 Vrap e DTH e qui mi fermo se vi interessa sapere ancora di più sulle altre criptovalute cosa ne penso ditemelo e farò altri video al riguardo ovviamente tutto ciò che avete visto non sono assolutamente consigli finanziari queste sono le mie idee sapete che non consiglio mai a nessuno cosa comprare cosa non comprare per cui ragionate sempre con la vostra testa grazie per la visione se il video vi è piaciuto scrivete qui sotto nei commenti quale è il coin secondo voi è la migliore da acquistare ora in questo momento oltre a questo vi chiedo inoltre di iscrivervi al canale di condividere il video di cliccare like e di attivare la campanella ed inoltre ovviamente di seguire il canale EngCripto e di unirvi al canale Telegram grazie ancora se volete un exchange eccezionale per fare trading spot e molto altro usate BitGet mi raccomando un ciao a tutti da Michele e alla prossima ciao